La prima volta che apriamo QCAD il programma ci chiede di definire alcune caratteristiche dell'interfaccia. In particolare ci chiede di definire la lingua utilizzata e l'unità di misura, il formato di carta per la stampa, il separatore di decimali e il colore dello sfondo. Questa finestra comparirà solo la prima volta, tuttavia queste caratteristiche saranno sempre modificabili attraverso le preferenze del software. Se abbiamo scaricato la versione gratuita open source di QCAD avremo la possibilità di provare comunque alcuni strumenti che sono propri della versione a pagamento, propri di QCAD Pro. Questi strumenti saranno disponibili per i primi 15 minuti di ogni sessione di lavoro. Se non abbiamo interesse a utilizzarli, possiamo disattivarli cliccando sulla X accanto al loro nome. sarà comunque possibile ripristinarli in futuro qualora volessimo testarli. Dopo aver fatto questa operazione è opportuno far ripartire il programma. come molti altri programmi di grafica, il software si presenta con una grande area dedicata al disegno, l'area di disegno appunto, e con altri strumenti che sono raggiungibili attraverso delle icone, raccolte in toolbar o dei menu. In più troviamo alcune sezioni messe in forma di finestre che possono essere fluttuanti o ancorate. va inoltre notata una barra di stato che contiene e fornisce alcune indicazioni utili al disegno. È una command line, una linea di comando tipica di altre applicazioni CAD. Effettuiamo adesso alcune personalizzazioni dell'area di lavoro, in modo da ottimizzare lo spazio a disposizione. È possibile ad esempio impostare le finestre secondo diverse disposizioni. È possibile metterle uno sopra l'altro, oppure affiancarle, o ancora metterle in alternativa l'una rispetto all'altra. questa stessa operazione si può fare con la command line, che si può sganciare utilizzando questo tasto, e inserirla nella fascia dedicata a queste finestre. altre impostazioni riguarderanno la posizione delle toolbar. Ad esempio, è possibile trascinarle dalla parte zigrinata, che rappresenta sostanzialmente la maniglia di ogni toolbar, per disporle in una diversa posizione. In questo modo avremo creato lo spazio per inserire nuove toolbar, che possiamo recuperare dal menu View Toolbars. Ad esempio, potremmo tirar fuori la Toolbar Modify, dove abbiamo numerosi strumenti più utili alla modifica delle entità. Per ulteriori modifiche, e in particolare per modificare il comportamento in generale del software e l'aspetto dell'interfaccia, dovremo invece andare nel pannello di controllo del software, che si trova sotto il menu Edit Application Preferences. Qui troveremo numerose sezioni dedicate ai vari argomenti che connotano il programma. Per esempio, sotto la sezione General troveremo una serie di opzioni relative al formato delle coordinate. Nella sezione Graphic View, invece, vedremo ciò che riguarda l'aspetto dell'interfaccia, e potremo per esempio disattivare la visualizzazione dei righelli e delle barre di scorrimento. Potremo anche cambiare il colore dello sfondo e degli altri elementi dell'interfaccia. Se vogliamo invece modificare la lingua, andremo sotto la voce Language nella sezione Language Settings. In questa lista troviamo numerose opzioni, alcune davvero utili. In questa occasione, tuttavia, ci limiteremo a modificare alcuni aspetti, appunto, relativi all'interfaccia. E quindi, per esempio, potremo modificare la dimensione delle icone della toolbar principale, la CAD toolbar, che è quella che si trova sulla sinistra dell'interfaccia, riducendone appunto la dimensione, e verificare che anche le altre toolbars abbiano la stessa dimensione. Per accertarci che l'interfaccia si sia aggiornata, possiamo riavviare il programma. Grazie. 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 Grazie.